Questo pezzo qui che andiamo a farvi scaturisce dal mio nervoso cronico nei confronti degli artisti. Perché gli artisti, i cantautori, gli attori, gli bassisti, cosa fanno? Non so se mi stiamo mai accorti, agli spettacoli, a queste cose qui, no? Arriva, vedete, Ramberti, che era arrivato? È arrivato tardissimo. Ecco, praticamente loro si presentano sempre in ritardo. Invece io, a me piace presentarmi in orario, no? Non saremo mai artisti se continuiamo a far così poi. Ma infatti io non so, io lavoro alla IVAS, io sono Mauro Casco, io facciamo vernici. Io non mi mischio con quello che fa. E quindi io ho scritto questo pezzo che va contro, è un pezzo contro questo. Mentre la canzone di prima era una canzone per l'Italia in Europa, questo è un pezzo contro il cantautore in posa e contro Amici di Maria De Filippo. Cioè, perché entrambe le cose mi danno fastidio uguale. Cioè, a me questa cosa dell'ugola, che è, che è, questa cosa è nata perché l'amorosa di uno ricco, di uno ricchissimo, mi era venuta a vedere una volta, no? E mi avevo fatto complimenti, complimenti. Poi dopo un anno mi ha rivisto e mi fa, ma tu fai ancora spettacoli, concerti? Cioè, sì sì, faccio ancora, continuo. E il moroso lì che fa, non lo sai? Mi tocca anche un disco, eh? Sono anche sui tu, non lo sai. E mi fa, ma complimenti, guarda. Se tu avessi smesso, me ne sarebbe dispiaciuto perché comunque hai un'ugola importante. Ecco, questa cosa qui mi ha un attimo ispirato questa canzone che si chiama Tu e l'ugola. che è, che è contro il cantautore in posa e contro quelli che sembra che la musica sia... La musica è un mezzo, è un mezzo. 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 Vai, che spero. Esatto. Stavo appunto presentata io. Galassi off, would initially essere un mezzo. Puoi che sia, è un mezzo. Caldate e? Inognito, sic Ho bello? En. Puoi che possa di farmi lautare. È 해야 mieux. Declarazione una risa. Tu che sei del ramo, cantautore, bassist, attore, ti amo Forse non proprio te personalmente, amo piuttosto il tuo modo fra la gente La gente sì, la gente è quella normale, quella che arriva ai concerti puntuale Tu invece ai concerti, spettacoli, eventi in genere Puntualmente mi arrivi in ritardo, esibendo il cappello gagliardo Cravattino, ginsacca di lana, la sciarpina stilosa puttana Per la salvaguardia dell'Ugola, per la salvaguardia dell'Ugola Dell'Ugola, dell'Ugola, dell'Ugola Avete rotto il cazzo, tu è l'Ugola Avete rotto il cazzo, tu è l'Ugola Villi in ritardo, è l'Ugola Per la salvaguardia dell'Ugola Per la salvaguardia dell'Ugola Grazie.